Dopo le precedenti gare d'appalto andate deserte, quell'unica busta per la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di tesoreria arrivata all'ufficio protocollo del comune 10 Sant'Antonio sembrava finalmente la possibilità di ripartire e invece al suo interno un foglio con una scritta riportata in dialetto siciliano Hai voluto il dissesto, adesso ti meriti questo Uno scherzo di cattivo gusto che al di là dei risvolti giudiziari perché il sindaco 10 Sant'Antonio, Santo Caruso promette azioni legali contro gli autori di quel messaggio, al momento ignoti non è stato gradito, soprattutto in un momento di difficoltà economica come quello vissuto dal comune e quindi dalla collettività sant'antonese L'ente sta gestendo la mancanza di liquidità delle casse comunali in continua situazione di emergenza e di proroghe L'anticipazione di cassa concessa dall'istituto di credito, nonostante la fine del contratto di tesoreria e dopo una lunga trattativa, non può garantire all'amministrazione Caruso la serenità nella gestione della macchina organizzativa della casa comunale con stipendi, servizi e forniture da pagare Adesso gli uffici predisporranno un'altra gara d'appalto e si ricomincia Grazie Grazie